Malpensa, Varese, 17 gennaio 2017, nessun c'è nei comuni intorno Malpensa. L'altola arriva dai sindaci del CUR, il Consorzio Urbanistico Volontario, che hanno preparato un lettera che nei prossimi giorni sarà inviata al Ministro dell'Interno Marco Miniti, al Presidente della Regione Roberto Maroni, e al Comune di Milano. Un centro di identificazione ed espulsione secondo le intenzioni del Governo, dovrà essere creato in ogni regione, e la vicinanza a un aeroporto è ritenuto fattore importante nella scelta della collocazione. E questo aspetto ha messo in allarme i sindaci dei nove comuni del CUR, preoccupati che possa arrivare la decisione calata dall'alto su un problema così complesso. I primi cittadini si sono trovati intorno a un tavolo, e hanno preparato il documento, che sarà inviato breve. Scriviamo al Ministro per fargli conoscere la situazione di questo territorio, spiega Angelo Bellora, Sindaco di Cardano al Campo, Presidente di turno del CUR. La lettera sarà inviata, anche al Comune di Milano che non conosce la situazione di quest'area. Non sono conoscenza a Roma, e a Milano delle complessità della nostra area, e delle ferite aperte, ad esempio la delocalizzazione. Un primo punto deve essere chiaro secondo Bellora. Sulle aree delocalizzate accetteremo che arrivino solo attività economiche e servizi di qualità legati all'aeroporto. Devono essere occasione di rilancio e sviluppo per un territorio che ha subito malpensa.